dai gioco jayaxus li hanno baffati i demoni si hanno baffato i demoni gioco jayaxus squalificato questa sciacca ragazzi è un problema ciao fratma ho scordato di darmi il demone ho rivisto il vod dopo le partite mi sono fatto che ho sterilizzato eri convintissime ho preso un green screen ce l'avevo già semplicemente l'ho installato beh noi ti fiamo svizia a dire oh la battaglia in furia la fuori la isla per youtube ogni tanto nei combattimenti potresti dire a reti e fare ti credo perché se io guardo lo schermo sembra guardo di lato vero ma infatti devo specchiare la camera dai grazie si meglio e allo mi sembra beh ma specchio è perfetto effettivamente però scusatemi perché io devo specchiare quando posso rientrare la camera da un'altra parte ok la battaglia in furia la fuori oh questo è un turno ok voilà bam e in un attimo è fat sì no così aiuto spostare la camera tutta sinistra è vero perché non sposto perché blocco un po' gli eroi cioè però sennò scusami scusatemi sai io devo stare un po' più qua cioè ma se io metto la camera tutti qua non lo so non lo so un attimo però devo trovare un attimo ancora ma questo ci siamo non possiamo proprio nascondere non è che se l'eta sei tornata in live fai lo sgaraggiulo eh qui budi che brutta persona che sei prima prima metti fideltà al team totem diventi manager e ci fai seguire tutti quei fantastici giocatori del team e poi ti adisci totem entrando nei method indossando anche la maglietta si può livellare il personaggio che voglio metterla su youtube moib i tuoi servitori hanno davvero dato tutto ho preferito mangiarmi imp gang boss rispetto a che c'era ieri giusto? secondo me si ehi gioco mi serve big infernal si può avere? ovo baldo cazzo eeeh vabbè ehm doppio mino rosa non mi piace proprio perchè sono 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 jair azzus e jair azzus ehm vuole tanti demoni in campo mino rosa non è un demone tutto lì tutto lì Sì, mi suicidate app Mancano dei demoni ragazzi Cosa manca? Dei demoni Mannaggia Facciamo le roll O prendo la 2-4 O secondo te devo prendere la 2-4 Tutto un bamperino Per l'amalgama Ma il nuovo pezzo Quello Quello a fare Insomma Taverna 6 Mi dà anche jungler in Taverna O dà solo demoni? Che doi livellare? Livellerò solo quando triplo Solo demoni Kajaglia Vuoi salutare Allora Chi ci mangiamo? Lui La questione è Lui lo voglio chiaramente Se hai cinghiani Non ti dà pumba Ok Quindi ti dà solo demoni Vendo il comandante Direi Se hai bestie ti dà pumba Peccato non aver trovato prima Big Inferno Eh sì Perché non ero deboli Madonna Per il giugler singolo fa schifo Cioè O lo gol di giugler Potrei anche giocare senza giugler In realtà Non è che sia obbligatorio il giugler Ah è vero Potevo vendere quello non buffato Hai ragione tu Ho pavigliato Poteva anche uscirmi qualcosa Che secondo giugler E che c'è anche il 5-4 42-46 primo Si potrebbe stare Sai 42-46 primo Perché non mettere lui primo E magari Lui secondo Lui terzo Lui quarto Questi dopo Tipo Questa è la questione 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 Costa 2 Però si E' quello Se me l'ha preso Aigus Non l'ha preso E' un servitore in meno Una moneta d'oro E' un schermato che è in E' un schermato Dov'è Qu'è? C'è un big fan? Eh chi è che sta montellando? Stanno facendo dei lavori qui a casa ragazzi Questa sarà un'estate in cui Vedrete Dei lavori Perché davvero è un trapezzo di osso Più che altro è un protagge giuglia Che poterò le pette su YouTube giagliadone dove stesspaare su lagaldones te metti che cazza sta da far Vabbè Solo perché ti ho eliminato Come sta andando a una nuova patch? Bene, dai Ma una domanda Stringite teori mama è il tipo che ricarica la locanda con i demoni? Secondo me prendi il tipo che ricarica la locanda con i demoni Cioè triplo tutto Sembra fortissimo quello a fare adesso Oh non c'è pericolo perché ti ho mago Mi mangio lui direi Ecco la tua ricompensa Sti ragazzi spero la tripla Ma la merda Si baffa di più ragazzi ma scusatemi Perché devo mangiare 2-1 Prende il doppio delle statistiche Sti pazzi No non prenderò un vino di rosa ragazzi Non prendere ho paura E' un vino di rosa E' un dinero di rosa Tutto Di stanno puntando tutti Attenzione va da ben potevo togliplare l'ugube destino ci poteva stare effettivamente no no fa sei danni col dato solo che l'animazione è buggata potrei prendere due selfless pure potrei prendere una selfless io butto via zapp ragazzi arrivare i primi congelare axus sarebbe un sogno dovrei togliere degli scudi no 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 amalgama dai no ma che è sto scudo dai no lui attacca qui giugla devi togliere lo scudo bravo sei stato fortunato sei stato molto fortunato signorino big infernal un pelo tardi so se ha senso prendere lui l'ho preso l'ho preso eeeh si tripla l'ho vista e che a me serve selfless personale ma non mi ha dato imp mame che è sta storia che non mi ha dato imp mame fare doppio big fair nell'adesso secondo me non aveva non ho non 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 serve a nulla cioè non 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 ho modo non serve a nulla non so come dire ci mette troppo a scalare è tardi è tardi ecco cosa volevo dire è tardi è tardi non quindi abbiamo di ripla non 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 Io cerco solo l'impermama come demoni E lui non è male per chiudere il turno Selfless Selfless L'oscurità avanza Ma non è meglio un peloranti? E che mi protegge il juggler, capito? Dai cleave Secondo me è l'unico posto possibile con tutti quei taunt No, non c'è parlato Kugetius Madonna quanto è palloso lui con sti Sti minimi con un milione di attacco Ma posso batterlo questo? Una parola Ho delle reclute fresche, fresche per te Assolda pure una di queste reclute La calma del caos L'ho poettato al 62 Già qualcosa Ma lo scudo di nuovo su impermama è dato a caogne No, il veleno, ho sbagliato Ah, ho sbagliato anche questo Ah, ho sbagliato su impermama Sbagliato Non c'è il time imbama Già il time imbama volevo dire Due voidloid Due voidloid Peccato Non c'ero così distante Foooc Avevo quasi vinto con Gioia Altro per lui prende più 16 più 16 Cliccando l'euro power Io prendo più 5 più 4 più 4 Close Peccato Con tripla selfless Era l'opportunità per vincere la partita Questo è indubbio Vabbè L'essere riuscito comunque in un turno a portare le percentuali Un pelino dalla mia parte È buono Considerato il gap che avevo sull'euro power Quindi ci sta Se tocco un do posto Bravo Gioia Axus Bravo Mi sei piaciuto 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 Mi sei piaciuto